Tabarro o tabarro? Cos'è il tabarro? Posso andare al bagno al tabarro? Posso andare un attimo al bagno? Sto... ho messo il cagato sotto Cioè se... Piegherino al tabarro? Piegherino al tabarro? Devi cagare? Ma un botto Eh caghiamo al tabarro si sta bene qua eh? Non lo so vedo delle scale Guarda che annuncia il ragazzo di... Nooo Offri per noi? Va bene Ah era... No ma va Si ragazzo Fa solo la cacca Ciao Ciao Aspetta che... vedo una struttura Propongo la collaborazione Vediamo se internet va qua dentro Mi sa che non prende qua dentro Eh aspetta sto provando eh Vediamo un pò Faccio un passo C'è dovere di sbocca? C'è dovere di... C'è dovere di... Come va qua? Come va? Non c'è nessuno Andiamo via Che succede? Prì? Vabbè Ma hanno pulito Hai scodito il tabarro? Ma se non c'è tutto Ma scusami Simone è autocestito il tabarro? Ma che ne so le 9? Non c'è nessuno Sì sì è un centro sociale questo eh Entri, offerta libera Prendi l'amaro Nella cassa perché c'è allora? No è perché ti devi battere gli scontrini Scusami vuoi evadere il fisco brutto pezzo di merda? Bene il centro sociale Era facile Paolo Paolo Evazzone Intervista al sindaco di Parma Do sta? Sì Stiamo scherzando? No assolutamente lo stai Pizzarotti Pizzarotti Signor Pizzarotti Signor Pizzarotti Signor Pizzarotti Quello che si è girato ormai Abbassano Vieni qua vieni qua Avvicino di un attimo Abbassano mai Non sono capace Abbassano mai Abbassano mai Abbassano mai Abbassano mai Così signor Pizzarotti Il Pizzarotti Siamo di una piccola tv Una piccola rubrica E aspetta Abbassano Sapere se potevamo fare una piccola intervista Possiamo ripostarci un attimo di là Fai tu Fai tu Spiegatemi quel coso lì Adesso le spieghiamo molto veloce No Quello l'abbiamo preso Qua è una cosa mia con gli altri Sì sì per ridere per ridere Allora noi siamo di una piccola tv E volevamo sapere un attimo Una piccola inchiesta Su che cosa succede qua a Parma Perché noi stiamo facendo Un piccolo tour per l'Italia Dove partiamo dalla Lombardia E andiamo a Napoli Finiamo a Napoli E praticamente facciamo una intervista A tutte le regioni in cui passiamo E siccome abbiamo visto il sindaco Abbiamo detto Cogliamo la palla al balzo Cogliete Cogliamola Perfetto Possiamo riprendere intanto Ok grazie Ok E volevo sapere intanto Grazie al signor Pizzarotti Per averci permesso di fare questa intervista A sapere ma che cosa succede qua a Parma La movida serale Perché è più quella che ci interessa Abbiamo un pubblico molto giovane Dove si trova E che cosa si può trovare E' un po' interattiva la Signor Pizzarotti E' vero che il tabarro è osteggiato Dalla lobby delle banche? Non so cosa significa Il tabarro lo conosce Sì sì certo Il bar che c'è lì Molto carino Anche perché mi chiedo Come facciano osteggiare la lobby delle banche Non so Forse magari I rettiliani che non bevono I rettiliani sono un problema gravissimo Sì 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 Ho fatto un piccolo sketch Perché siamo entrati Non c'era nessuno E praticamente sembrava un locale autogestito Sì no no Poi è venuto e c'è arrivato il Sì sì E per un attimo dove si trovava la movida serale Esatto La movida si trova A Parma Sono solo altre città Hanno fenomeni itineranti legati alla movida Quindi ci sono fenomeni anche di mode Allora via Farini Che è questa via È la più famosa Direi che è abbastanza costante Non questi anni ha avuto fenomeni di concentrazione massimo minima Nel senso che ci sono anche state riflessioni Ma è sempre un punto di riferimento Alcuni potrebbero dire di una movida diciamo più ricca Ecco diciamola così Ah ok Quindi stampo aristocratico Ma non soltanto quello Ma anche sulla tipologia dell'offerta dei bar Della tipologia di cottele e quant'altro Poi c'è l'oltre torrente Che è venendo sempre costeggiando la via Emilia Attraversando il ponte Il quartiere che c'è di là dal ponte Che invece ha sempre avuto una movida più studentesca E quindi legata a costi anche più bassi Legato a questo E quindi un'offerta Verso quella Verso quella Molto pochi Ci sono ma è evidente che la proporzione è sempre una proporzione legata alla dimensione delle città Si si poi io non abituato Ah ok Senza tetto ci sono Abbiamo delle strutture che li accolgono per quelli che ci vogliono andare Benissimo C'è anche una fenomenologia rispetto al non volerci andare Sono scelte poi Rispettabili anche che creano poi delle problematiche legate anche a non capire persone in giro al freddo Quindi insomma l'invito è sempre quello dell'andare Detto questo Anonimo Spirazio Anonimo Spirazio Che ha avuto fenomeni di grande concentrazione di movida Determinando anche un grande lamentere da parte dei residenti Perché c'era un'occupazione Classico Si ma lì c'era anche un tema di occupazione di sede stradale Cioè non si riusciva ad andare Inoltre questa è una strada pedonale Quindi come dire Non dà fastidio a nessuno Salvo eventualmente al volume Ah Interazione Ma di là c'era molto più Sindaco cosa ne pensa del patrimonio dell'UNESCO di Parma Ovvero il noto rapper Bellofigo Le piace Lei pasta al tonno ne mangia E l'affitto lo paga E' famoso qua a Parma perché quanti lo c'ha Si si è famoso in realtà è famoso più fuori Parma che a Parma Certo Dopo tempo ho scoperto che era di Parma e non che di Rapp Ah io non lo sapevo neanche quindi penso un po' Si si comunque è evidente che fa un tipo di Rapp provocatorio Sì si 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 Non viene capito dai leghisti Che pensano che sia vero Ah Una sorta di dissing Ma insomma è evidente che cita il PD in una chiave Ah John Si è una chiave molto grezza però che comunque manda il messaggio che vuole mandare Però sul tema del gusto personale poi lo lascio agli estimatori E ecco sicuramente mi piace più qualcosa di scorevole però come dire Va bene va bene certo Allora l'ultima domanda facciamo una domanda scottante ogni volta che andiamo in tutte le regioni Trans minorenni ce ne sono qua a Parma? Non lo so dire immagino di si perché è una fenomenologia che non dipende dall'età ma che dipende dal momento in cui Signor sindaco lei è un uomo bellissimo ma non amo dilungarmi cosa ne pensa di Bello Figo e di Don Capuccinò La questione wifi è realmente così importante per loro? Il pelato è decisamente innamorato di lei proprio come i bussers Nei bussers non si sono più È un altro side project che stiamo facendo Comunque penso che come è tutte le realtà ci siano anche a Parma giovani non abbiamo mai Stanno impazzendo Salve sindaco Pizzarotti Diplomato sia all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato Primo Levi di Parma con indirizzo elettronico Ha lavorato per molti anni come consulente per banche e istituti finanziari Al momento delle lezioni al sindaco lavorava come project manager al credito emiliano di Reggio Emilia nell'ambito dell'ICT È sposato dal 2003 Ho dei piccoli agenti della Cina Ho dei piccoli agenti della Cina È facile, è facile a trovare Comunque abbiamo avuto tante attività Oh grazie a tutti Ligato all'LGBT Assolutamente Sindaco il pelato è attratto da persone importanti Non è vero ma va bene Ok E quindi noi facciamo tante attività su queste tematiche legate ai diritti Insomma da ben prima della Cirinna L'anno prossimo avremo il Pride Visto che siamo capitali dell'italiana della cultura nel mese di giugno E quindi come dire ben felici di dare uno spazio culturale Per poi fondamentalmente un tema culturale su cui interagire anche la nostra città Benissimo Facciamo un ultimo saluto tipico della nostra rubrica Ma nel frattempo per il disturbo possiamo offrirle uno sprizzo, un calzo, un caffè? No, non può comprare io ci ho consiglio comunale in corso Ah perfetto Per fare la foto per l'attività legata ai botti Ma poi torno su Perfetto Facciamo un piccolo saluto l'ultimo Grazie Parma, grazie Sindaco Grazie Parma, grazie Sindaco Grazie mille, gentilissimo Buona serata Salve Sindaco Quali sono le principali bellezze di Parma? Oh, che belle Oh, salve Oh, salve No, no, fate Siamo di una piccola tipo uno strano Viva la figa E va bene Oh, c'è una piccola interazione Interazione Il coccodrillo come fa? Chi lo sa chi lo sa Bau 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 Prendilo No La mosca la mosca Andiamo Andiamo a prenderlo Andiamo? No, non ha iniziato i cani Non hanno capito fortunatamente Vabbè, abbiamo intervistato il sindaco di... Inizia bene questa settimana E soprattutto, grazie per la dritta Molto simpatico, è un bravo... Un bravo sindaco Un bravo sindaco Ehm... L'abbiamo visto in live Che non possiamo venire lì vicino Ehm... Lui bravissimo ha fatto per Twitch, eh? Ascoltava... Si fermava quando c'era la... Bravissimo Bravissimo Bravissimo, il sindaco di Parma Non si è neanche scoposo E' un gioiello D'olanda delle trans minorenni No, no, niente Anzi, ha dato proprio la presa... Si, la presa con le LGBT Ci ha messo di mezzo Bravissimo Vedi, vedi Eh? Si guadagna... Come quanto guadagna un sindaco? Ma non fanno i conti traschi 3 milioni No, sì, tipo 10 milioni il bel mese Ah, non so Sì, farà tipo 300 euro l'ora Eh? Sì, sì, sì Poi qua Parma è molto ricca da quello che ha detto Di conseguenza... Io pago un sacco di multe Quindi per... Pretenivi il meglio Eh, beh Magari sei tu che l'anima Paga il paga il comune, no? Sì, sì Vai, prendiamole un paio di multe qua così Ma mi fanno a favore al sindaco Eh, beh, adesso mi faccio togliere la macchina magari Mi stavo pensando Ah, il figlio del sindaco serve una panda verde Come sai? Il sindaco è il tuo panno e ti regala la corposa, no? Non facciamo questi giochi stupidi in queste live Possiamo mettere la live sulla poverella? Sopravvive Ma fai... Fai fare un giretto No, non arriendo più! No! Dai! Tieni, 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 tieni Tieni Sei un pullo Vai No, quella con quella Vai, vai Con quella con quella Aiutatemi No Tenetemi Ti tengo, ti tengo Bro, è troppo lontana No, no, no Ok, ok, ok Ti sto tenendo eh Cimo Cimo Come è Gesù? Non ho più i piedi E sono finiti Appoggia, 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 appoggia Oddio, cazzo Un applauso Un applauso della chatta, il numero uno Allora, le spiego Mi ha preso lo struzzo Vabbè, andiamo a far lanci No, è un bambino Aspetto il prossimo giro Aspetto il prossimo giro Aspetto il prossimo giro Perché vorrei rendersi un calcio Hai rischiato totalmente le gambe Adesso guardo male la bambina No, non guardarla male Eeeh Non capisco, c'erano tanti miei cavallini Lei è interessato alla collaborazione Perché l'unico L'unico struzzo L'unico struzzo È vero Oh, Andrea, Kimi, grazie per la sub Due mesi Perché la gente si chiama come te? Bro Ciao Daniele Ehi Ma è un caso che il nicknames Drumox Sia l'anagramma di fallito E se... Ti l'ha pagato? Guarda come non tocchi sullo struzzo eh bella Non è solo le struzzo È bellissimo Oh, OK Posso dire una cosaiva un secondo? Aspetta Aspetta Mi sembra di essere in paradiso No, mi dissocio No, ci sono veramente, no Scambo, scambo, scambo Sto scammando Ahhhh Sto scammando Uh oh No, scambo Mi dà del ban Siamo felici, siamo piccini Amiamo tutti i bambini Siamo felici, siamo piccini Amiamo tutti i bambini Siamo un po' bambini Ma non finire mai Speriamo che il giro duri per sempre Ciao Ami Grazie Andrea Grazie Per tutte le esperienze che vi fai fare Grazie che vi ho riportato qui a Parma Parma è bellissima Io amo questa città E' più a Parma Con questi piedini Ciao Scusa io c'ho un dubbio Ho notato una cosa, vieni con me Questo dovrebbe essere una roba per i ragazzini Che cazzo è qua C'è questo, guarda I bambini mi fanno La giostra La che c'è Ah, la sinistra Vabbè Mi snotta gioco e mi gira la testa No, vai Basta con sto struzzo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti